Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la cheesecake fresca al limone. La cheesecake è una torta di origine statunitense, ma oggi vi proponiamo questa deliziosa variante al limone. Fresca, delicata e golosa, perfetta come merenda durante queste caldissime giornate estive. È facile e veloce da preparare ed essendo un dolce freddo non serve utilizzare il forno. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo in acqua fredda 10 grammi di gelatina per 10 minuti. In un'altra ciotola mettiamo 500 grammi di mascarpone, 500 grammi di yogurt al limone, i semi di vaniglia e la buccia di un limone biologico. Mescoliamo fino ad ottenere una crema omogenea. Poi mettiamo un attimo da parte e riprendiamo la gelatina. che mettiamo in un pentolino insieme ad un cucchiaio di acqua e facciamo sciogliere sul fuoco. Riprendiamo la crema e versiamo la gelatina. Mescoliamo finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. iniziamo l'assemblaggio della torta. Prendiamo un piatto da portata e un anello richiudibile di 20 cm di diametro e 6 cm d'altezza dove sistemiamo dell'acetato di 8 cm d'altezza che fissiamo con dello scotch interamente in altezza dove i due lembi si incontrano. Mettiamo una nocce di crema sul fondo e la spalmiamo per bene. Creiamo una base di savoiardi. Ce ne serviranno circa 100 grammi. Chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. Per coprire completamente la superficie dobbiamo tagliare i savoiardi per farli combaciare tra loro. Versiamo un po' di crema giusto per coprire i savoiardi e con una marisa livelliamo per bene così da coprire tutti i buchi. Aggiungiamo la restante crema e livelliamo per bene. Muoviamo la teglia e mettiamo in frigo finché la crema sarà indurita. Adesso creiamo la gelea a limone quindi mettiamo in ammollo 6 grammi di gelatina. In un pentolino mettiamo 200 ml di acqua depurata, 100 ml di succo di limone che passiamo in un passino e 50 grammi di zucchero. Diamo una mescolata e lasciamo sul fuoco finché lo zucchero si scioglierà. Ora aggiungiamo la gelatina. Mescoliamo per bene per farla sciogliere. E versiamo il tutto in un contenitore. Aggiungiamo una goccia di colorante alimentare giallo e mescoliamo per bene. Lasciamo a raffreddare a temperatura ambiente. Riprendiamo la torta dal frigo e aggiungiamo la gelatina. Poi rimettiamo il frigo per 6 ore o meglio tutta la notte. Il giorno seguente togliamo l'anello e la pellicola. E con del cioccolato bianco creiamo dei cerchi imprecisi. Completiamo con qualche perla argentata. E voilà! La nostra cheesecake fresca al limone è pronta da assaporare! Bene amici! Ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa cheesecake al limone. Cosa posso dirvi? È una cheesecake deliziosa! La parte superiore di questa torta è la sua particolarità in questa gelatina al limone che rende il dolce molto fresco. Il limone è l'ingrediente chiave della cheesecake in quanto con la sua acidità riesce a rendere la torta rinfrescante e dissetante. Insomma è buonissima! Assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace! Non costa nulla ma a noi può fare la differenza! Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!